Io dico serenamente che un allenatore più bravo quanto sia, da solo sicuramente può trovare delle difficoltà a fare risultati. La società è sempre stata presente, innanzitutto mi ha dato fiducia nei momenti di difficoltà. Ancora di più in questo momento, oltre che alla presenza dei Gagliani, c'è anche la presenza del Presidente, che ha un bello entusiasmo e quindi credo che siano dei punti al nostro favore. Perché credo che la società è al vertice di una piramide e a scalare veniamo tutti noi. Ma innanzitutto dispiace per De Jong perché l'abbiamo perso per tutto il campionato, stava facendo molto bene, avevamo cominciato a conoscere il calcio italiano e questo era importante. Lì abbiamo Ambrosini, dovrebbe rientrare Montari anche se sicuramente avrà un pochino di tempo per rientrare in condizione. Al momento siamo qui, poi siamo questi. Poi dopo vediamo a gennaio cos'è che uscirà dal Milan e cos'è che potrà entrare. Però su questo la società è molto vigile e quindi attendiamo. Su due nomi, è difficile fare ora dei nomi anche perché io credo che sia di Balotelli che Pastore siano due giocatori che difficilmente le società, sia il PSG che il Manchester City si preveranno. Grazie.